Nel presentare la sfida di Conference, un po' tutti abbiamo usato lo stesso Canovaccio, cioè squadra tecnicamente più forte, ma chiaramente un grande vantaggio per i Greci, il fattore campo. Beh, io devo dire che grazie ai tifosi della Fiorentina, la prima sfida di Conference l'abbiamo vinta, perché portando 8 mila tifosi al Pireo abbiamo azzerato quello che poteva essere un fatto ambientale, uno stadio tutto colorato Olympiakos e quindi a questo punto bisogna fare un grandissimo applauso a chi anche a costo di grandi sacrifici economici ha detto io ci sono, 8 mila cuori Viola, a questo punto tocca alla squadra far valere quello che le previsioni dicono, quello che le analisi dicono, i Viola sono più forti, loro lo devono dimostrare sul campo.